La convergenza organica di sacerdoti raici è uno dei terreni privilegiati sui quali prenderà vita e si consoliderà una pastorale improntata a quel dinamismo nuovo cui tutti ci sentiamo incoraggiati, i raici in quanto cristiani sono impegnati a svolgere un apostolato missionario e le loro specifiche competenze nelle diverse attività umane sono in primo luogo uno strumento affidato loro da Dio per consentire all'annuncio di Cristo di raggiungere le persone, gasmare le comunità, incidere in profondità mediante la testimonianza dei valori evangelici nella società e nella cultura. I sacerdoti, dal canto loro, esercitano una funzione primaria insostituibile quella di aiutare le anime una ad una nei sacramenti, nella predicazione, nella direzione spirituale una spiritualità di comunione valorizzerà al meglio i ruoli di ciascuna componente eclesiale. è tempo di deporre ogni timore e di lanciarci verso traguardi apostolici audaci dognarci